Ma sai, anche in questo caso pensavo all'adapt più forte, nel senso il potere più forte che può essere preso dall'adapt. Ma anche la carta B più forte, comunque sia, la domanda era un po' aperta, diciamo. Personalmente penso che lo stealth sia uno dei più forti, contando che appunto carte come il Conceal sono state tolte, o comunque sia nerfate e limitate, in quanto possono impedire al giocatore avversario di avere una risposta pronta al problema. Come il Divine Shield, per esempio. Come il Divine Shield, in alcune situazioni, per esempio contro Priest, contro Hunter, una creatura che scende con Divine Shield e magari a Taunt diventa molto, molto solida, no? Una volta che la adatti con lo scudo divino. È chiaro che perde il valore Divine Shield nel momento in cui attacchi contro... cioè, in cui vai a giocare la carta e puoi essere attaccato da un ping del mago, un ping del ladro o quello del druido. Però, contro alcune classi è molto forte. Lo stealth, per esempio, è fortissima, non chiaramente nel caso in cui vuoi adattare una creatura con Taunt, perché rischi che perda il suo effetto Taunt. Quindi, sì, vedi com'è variabile. Però è vero, sono d'accordo. E io non scredito, però, comunque, sia il Venom che il più 3 di vita. Io le trovo, comunque, sempre molto forti nelle situazioni. No, sicuramente. Però, sai, lo stealth, secondo me, è sempre con la marcia in più, perché, ovviamente, ti impedisce di rispondere efficacemente, perché, per quanto lo scudo divino sia una protezione dal danno, un effetto di rimozione come X, maleficio, oppure, magari, Shadow War Death, parola di morte del prete, comunque viene tolta la creatura. Comunque, vediamo questo match-up e questo mazzo... Francesco, rilancio prima dell'inizio del game, ricordandoti che c'è anche la possibilità di essere imbersagliabile nell'adapte, e quello fa tanto. Sì, 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 appunto, ti permette di essere tradato, di essere ucciso con le creature, ma non con l'espello. Però, comunque, vediamo questo mazzo di El Magico che, appena l'ho visto, non credevo ai miei occhi. Un Ramp Cattiveria Druid, lo vorrei quasi chiamare. Non solo gioca Deathwing, gioca Isharic, anche Isharic, che festa. Sì, sì, infatti era quello, è una versione molto bella del Druid che è uscita ora, con veramente la ciccia incredibile. Cioè, il doppio Deathwing, come dicevi te, Isharic, Isera, Sogot, c'è veramente di tutto. E poi questa carta, molto interessante, che ti chiedo di commentarcela, mentre vediamo che di qua si sta creando la pura violenza, da parte di Klaus, che ha detto, beh, sei druido, vuoi attaccare sul 4-1? Io l'ho fatto 4-1. Le vuoi prendere 8 pizze? Prendi 8 pizze. Organizzata tra te. Non so se è la scelta migliore, ma vedo Klaus veramente, veramente arrabbiato per la sua posizione di classifica. Raccontaci un secondo, invece, la Giant Anaconda. La Giant Anaconda, che, appunto, è molto, molto, molto forte, nel senso di questa Bittertide Hydra, penso sia l'Anaconda. No, più che altro, ecco, questo è il Fell River dei ricchi, invece che dei poveri, perché... No, quella che è la Bittertide Hydra, no, io ti dico proprio la Giant Anaconda, che è, perdonami, guarda, te la mando, te la mando, te la mando. Ok, magari non vedo, mi sono distratto. Comunque, la cosa molto importante è quel raptor che adatta la bestia amica, appunto. La nonnina ti permette di avere quasi, certamente, una bestia nel campo, perché non solo è una bestia stessa, ma quando muore rilascia un 3-2, quindi ti garantisce che possa essere bersagliato da questo crackling raptor. Vediamo che, appunto, uh, Tundra Rhino, che arriva e dà carica alle bestie, mettendo in grosso, grosso, grosso pericolo il magico, perché se non rimuove quel Tundra Rhino, il prossimo turno vedremo un simpatico 8-8 in carica, che... Un Glade Portal, spero nella RNG di qualcosa di buono, non male, un bel body senza taunt, che problema. La Giant Anaconda te l'ho mandata, la Giant Anaconda è questo 5-3 a drop 7, Francesco, che con Deathrassle ti sommona immediatamente una creatura con 5 o più di attacco dalla tua mano. E quindi fa un pochino il gioco e il paio con tutte quelle Deathwing, i Shari, i Zer... no, i Zerano, però, insomma, fa un po' spavento nelle mani del druido. Specialmente se, appunto, riesci a innervarla o a giocarla precedentemente alla curva grazie ai ramp. Ma io... Sono d'accordo. Aditrosci di giocare il ratto, piuttosto che... ah, sì, perché genera una quantità infinita di 1-1 e forse fa più danno così che con l'Hidra stessa, ma forse io avrei preferito l'Hidra in carica. Qui adesso fai... con il ratto tradi... no, fa più danni così, perché il ratto trada il caro buon Faceless, genera 2-1-1, che vanno a tradare ulteriormente, ci sono altri 4 morti, quindi ci sono altri 4... ci sono altri 8, quindi ci sono 12 danni di Iene in questo caso. Lui sta pensando come... cosa sacrificare, sai? Però in questo caso... Io sto d'accordo a questo punto. Eh, sono d'accordo, anche secondo infatti, deve sacrificare il ratto perché rischi comunque... tanto più di 2-1-1 non c'era quasi possibilità dalla sua mano di averli. Ovviamente va face per 10, altri 6, lo lascia a 6 signori, a 7 signori miei. 7 punti vita per il machico che non lo vedo veramente... I can't see you, immediato, violenza contro violenza. Allora, Ramp Druid, che si presenta sperando di poter arrivare il prima possibile ai propri ciccioni, ha un problema. Tonnellate di piccole beast da parte del Hunter lo schiacciano in anticipo, Francesco. Sì, molto bello vedere come è una classe che è praticamente stata inesistente dal Gadget Sun, dall'ultima espansione, è stato veramente totalmente assente. Era un pochino presente, diciamo, su Karazhan, un pochettino in quella, con qualche midrange, con qualche cosa, ma poi era completamente, diciamo, sparito. Anche già dal... Whisper of the All Gods non era molto presente, ma sembra essere diventato molto, molto, molto forte. Sia con la rotazione dello standard, sia con le rigoni. In diverse espansioni, sì, esatto. Perché ci sono almeno due, tre versioni del Beast Hunter in tutti i tipi, c'è la versione del Quest Hunter, comunque, che è molto forte. È molto, molto interessante. Da quest'altra parte vediamo di nuovo un Caverns Rogue, un Quest Rogue proprio, basato sulla sua quest, e di nuovo Druid dall'altra parte. Questo tipo di matchup, Francesco, è a favore di Klaus o di El Magico? Eh, qui mi sa che purtroppo è ancora a favore di Klaus, perché se riesce ad aggrare, a, diciamo, essere molto prepotente nell'early game, come di solito riesce a fare, potrebbe mettere veramente in difficoltà El Magico. Però, d'altra parte, se il nostro caro Druido riuscisse ad evocare qualcosa di molto interessante, grazie a Wild Growth, quindi, scontando la curve, diciamo, comunque sia, rampando, potrebbe riuscire a mettere un bel freno a Klaus. Diamo un po'. Ovviamente, turno 1, viene giocata la Cavern, la caverna del sottofondo, quindi, ladro caverna, vogliamo chiamarlo, no? Visto che è italiano, ladro caverne. Sembra sia un titolo di un anime. Qui, Swashburglar, scusate, pirata festaiolo che viene, penso, poi rimbalzato dal traghettatore, o no? Non lo so, non lo so. Dicite, per poi giocarmene altre due, vorrei dopo... Eh, no, no, ma deve entrare, perché è quello che vuoi giocare. Sì, sì, quello che vuoi curva. Sono d'accordo, sono d'accordo, perché è la carta che ti dà carte ogni volta che viene giocata, quindi sei estremamente felice di poterla giocare. Pescassi adesso il secondo 2-3, o il panda, sarebbe veramente incredibile. Come vedi questa giunta di vani? L'anaconda! L'anaconda, sì, questo vani è molto molto buono, ma... Io vedo, purtroppo, due draghi con un quattro di attacco con l'anaconda. Che sfortuna incredibile! Che sfortuna incredibile, perché con la giant anaconda non riesce a far entrare niente di utile. Ah, peccato! Sì, perché purtroppo qui, allora, chiaramente Klaus non andrà a tradarlo, perché è conscio dei pericoli che ci sono dall'altra parte. In realtà potrebbe anche provare a tradarlo col fatto che ha il vanish. Per il prossimo punto non potrebbe addirittura fare prep vanish nel caso. Andrà a tradare l'anaconda, far scendere il bersaglione... Vedere quale pezzo va giù in board e vedere come interaggirti. Anche perché sarebbe stato l'unico modo per ragionare te su quel pezzo che scende in board con il vanish e poterlo togliere. In questo caso lascia che sia lui ad attivarlo e fosse per esempio un isciari se offriresti molto al suo potere eroe poi. Assolutamente sì. Potresti fare poi innervate, se fosse con quattro mani, innervate vanish oppure prep vanish, però ha deciso che comunque sia se... L'unica carta che ti dispiace veramente, che venga evocata dall'anaconda, è isciari. Tutte le altre faranno il tuo turno eventualmente, il vanish e mantenerti la board. Mentre adesso può permettersi ancora pirata festaiolo e... Intanto può attivare la quest. Allora, ce la fa con tutto? Perché dovrebbe fare... Ma no, perché lo Swashburgler lo giocherebbe la terza volta, non la quarta. Sì. No, se avessi una mano in più dovrebbe giocare tutta la mano perché deve giocare Swashburgler, Traghettatore, rimbalza Swashburgler, poi rigioca Traghettatore, scusa, rigioca Swashburgler per il terzo e poi puoi fare innervate prep... No, no, non puoi giocare, devi fare innervate prep con vanish, no, non è troppo complicato. E quindi tanto cecca il fatto che l'anaconda non ha via di sopravvivenza, l'anaconda non ha effetto e questo è wow, e va comunque a prendere un naturalize che può essere fortissimo per Clouds, una rimozione su un ciccione è veramente la carta che gli serviva. Ma qui vediamo se lo rigioca o no lo Swashburgler, è un bel rischio. No, se lo gioca dovrebbe fare innervate prep, vanish, non conviene. Cioè neanche gli basta il mana in realtà. Quindi no, non poteva fare nient'altro. Sicura, il caro buon Barnes per mantenere il controllo da board, evoca il simpatico 5-5 Lucky Duke Buccaneer. Purtroppo è un Battle Cry, quindi è solo un 5-5, insomma. Eh certo, è solo un 5-5. 5-5 ferisce. Regalato da una cura. Quindi 5-5 ferisce, eh? Dove si ingegnera che pesca... Oh, arriva, signor di me, si attiva da queste. Si attiva da queste perché a 2 di 4 le caverne, The Caverns Below, sono a 2 di 4, quindi doppio Swashburgler. Però è la giocata più forte in questo momento. Devi togliere quel 5-5, potrebbe rischiarsi un naturalize, ma forse è un po' presto. Anche se sei coperto di Vanish il prossimo turno. No, se vuole essere aggressivo potrebbe anche farcela, penso. Perché fai un po' il controllo del mana, perché adesso per creare la quest ti costerebbe 2 mana con il caro buon... Ma tu cos'erano a prendere? Sì, sì, ne va a fare la quest, mi sa. Ne va a fare il prep quest e con lo stone task board vai a tradare il 5-5 o il 3-2 per prendere il controllo della board. Credo, non vorrei dire una spiegazione, ma mi sa. Non solo, Francesco, non solo. Hai appena preso l'Etherial... l'Earthen Scales, Francesco. Cioè, le scaglie della terra che guarda cosa ti permettono di fare quando vorrai su uno dei tuoi 5-5. Wow! Ti prendi 6 armor. Veramente forte. Ok, 4-8 che potrebbe essere un problema, però non so se a questo punto ci vale la pena il naturalize, ma credo di no, sono quasi sicuro che non sia la scelta migliore. In realtà anche il Moon Glide Port è l'importante, perché comunque sia, nel light game ovviamente, quando arriverai alla fine dei piccoli drop da giocare, che al momento ce n'è solo uno in mano, cioè l'Eviscerate, il mio po' Glacial Shard, potrebbe anche pensare di appunto frizzare il druide per salvarsi da quel potere eroe. Eviscerate, vado a trovare con uno dei Bulgrac. Ma sai cosa, ma sai cosa, non solo perché togli la possibilità di fare Ferrarage e Hero Power in questo caso, quindi non rimuovi un altro di 5-5. Si potenzia ovviamente a 6 di armor e 6 di attacco il suo piccolo, piccolo piratino festaiolo, 20 di vita restano per El Magico, situazione, anzi 19, situazione pessima per lui al nono turno, con in mano un Isera della speranza e della vita? L'unica cosa è Isera Awakens, che faccia 5 danni AOE, vediamo un po', qual è la carta che gli viene data, e invece no, purtroppo la Luffy insiste, la sorella ridacchiona, vorrei quasi chiamarla, un 3-5 per 3 mana che non può essere versagliata, ma purtroppo non può neanche aiutare contro l'incevere delle borde. Lei ride perché la odia chiunque la trova, chiunque droppa lei la odia terribilmente, quindi lei ride giustamente, maledetta lei. Ok, da quest'altra parte, altro pazzesco Glacial Shard 5-5, mamma mia, che bombe in vera e controllo. Qua blocco Isera nel dubbio, il problema è l'unico, allora, potresti scegliere o di rischiare di pushare per, diciamo, fare l'età nel prossimo turno, però rischi di essere sotto un Isera Awakens, c'è uno su 5 che ha pescato il 5 danni a tutti, quindi se tu giochi Glacial Shard su Isera rischi che ti faccia BoardWife al prossimo turno. Chiaramente se non lo fa, hai quasi matematicamente vinto. Scegli di pushare, vediamo un po', ovviamente noi sappiamo che ha fortuna, lui ci spera, dice vabbè, gioco qua, metto un altro 5-5 dal Moonglade Portal, perché penso che abbia comunque, sì, l'effetto che comunque si attiva. Sì, sì, è un 6-6, quindi se anche c'è Isera, se anche c'è Isera Awakens, non solo ti porti a 2 perché ti fa 2 danni a te stesso, ma mi lasci a 1 il Calabonso Bugar e concede. Io Francesco, avevi ragionissimo, il calcolo era perfetto, l'Ital rimaneva in borde, ti prendevi 5 danni da te direttamente e in questo caso porta a casa la vittoria giocando in maniera pazzesca. Allora, e qui scatta subito la domanda tecnica su questo tipo di match. È vero che è riuscito al quarto turno ad attivare, grazie ai piratini, la quest immediata. Quel deck se lo fa così velocemente è pressoché inarrestabile, perché se dal quinto o sesto turno tutto ciò che hai in board e che vai a giocare è un 5-5, sei un mostro inamovibile perché le tecarte costano talmente poco, le Glacial Shard costano 1 per essere un 5-5 che blocca un avversario. Esatto, un Frost Elemental ha costo 1. Proprio ci costa 1, costa solo 5 manavino, insomma non è un po' resto. Allora, però ti chiedo subito. Vediamo ancora. Vediamo un po' questo game, eccolo qua. Contro Druido. Ti chiedo subito, è stato fortunato il fatto di vedere per Clouds un doppio, cioè un doppio SwashBugger così presto e attivare immediatamente il combo o è sicuramente parte della meccanica del deck? Beh, sicuramente fortunato, ma comunque c'è il discorso che se non era lo SwashBugger poteva essere un altro delle 4 o 5 addirittura modi per rimbalzarsi il solito SwashBugger in mano, quindi sicuramente onesto. Mark Lee Sherry che arriva a prendere il controllo della board, potrebbe quasi fare innervate per mettere più board, ma penso che voglia riservarselo per Fingia, perché è contro un matto del genere, Fingia di terzo turno può essere veramente forte in quanto può andare a tradare carte, come ad esempio l'Idrologa, che potrebbe essere molto molto importante, o altre carte di simile natura. Vediamo un po' che farà. E sì, infatti. Innervazione per Fingia, che mette dei grossi problemi in mano a magico. arriva il 2-4 stealth che chiaramente andrà a minacciare ogni singolo piccolo pezzettino che verrà messo in gioco del magico, perché deve riuscire a non morire. Deve togliere 4-2 a questo punto. Lo Stokoni, il Defender, sarebbe quasi... Wow, Tyrion Fjordring è sballata, sballata questa troppata. Sai che forse per fisco il Tappa di Fogna? Esatto, perché è un 2-6 che ha molto molto valore. E qui vedremo un Bluegill Warrior che va a tradare sull'1-4 per poi essere ucciso da Fingia. L'altro Evoca, se è contro Bluegill Warleader che altro... C'è gente che gioca il Golacca? Te l'avevo detto che quel maledetto fetido granchio sarebbe stato utilizzato. Te l'avevo detto io. Sì, ma perché il Pirate comunque sia un mazzo molto forte, cosa molto prevedibile, visto che dalla rotation, dalla rotazione in standard ha perso... Finlay, basta. Su una carta, quindi insomma, era prevedibile che il Pirate Warrior continuasse ad essere veramente una forza della natura. Ma a proposito di forza della natura, abbiamo l'altra parte della vecchia combo, che è il 7throar. Non sono ancora abbastanza danni, giusto? Perché sono... No, perché facendo due conti diventano... 3-6-9... 9... Più 8-16... 4 off. No. 4 off, sì... 4 off. Però io comunque, Marchio dell'Otto, lo farei lo stesso, senza problemi. E questa Living Mana, ragazzi, potrebbe anche pensare di fare Living Mana. È una carta che io adoro. Appena l'ho vista, ero in brodo di giuggele, francamente. Purtroppo... Però in questo caso ti perdi un cristallo di mana. Sì, ma va bene. Io ho una board che... Se hai consacrazione, si riparte. Se non ce l'hai, hai perso. Diciamo che io è per portarmi su 3-0. Quello sono assolutamente d'accordo. Per togliermi 5-2-2, cioè in realtà metti 4, perché te ne hai male uno. Potresti fare anche Living Mana, ti avanza perché... Decidi di pushare più Hero Power, senza giocare il Mark of the Lotus, che forse questa è una scelta Snip. Poteva giocarlo per evitare di perdersi, soprattutto Finja, che invece andrà a perdere il turno dopo. Secondo me qui non ci ha creduto. Non ci ha creduto abbastanza. Però sono tanti danni, eh. Però sono tanti, tanti danni. Attacco immediato ovviamente su Finja. E scende un ottimo, ottimo, ottimo taunt a questo punto, però. Taunt segreto e uno che si trasforma tutto in Marlock quando viene utilizzato il tuo potere eroic. Redemption, che potrebbe essere... Pessima, triggererà ovviamente sul Firefly, quindi per tantissimo, tantissimo... Ah no, scusami, Redemption, sì, quindi ti fa tornare... Ah, quindi ti fa tornare in vita il tuo 2-2, notevole, no? Scusami, avevo fatto... Continua in I.Vida, sì. Sì, avevo pensato a quella che fa, trasforma, porta a uno la vita dell'alleato avversario. No, 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 no. Rimetti in vita il carbon... Il carbon weaker flame. No, infatti sono tanti punti feriti, ma qui, vedi, lo sto andando a perdere Clouds, perché poteva veramente minacciare l'età, perché se io ho una board piena di 3-3, ti metti tu 2-2, va bene, io te lo squaglio otto volte, continuo a vincere, te sei indietro e sei con pochissimi, pochissimi punti ferita. Questo Living Mana, secondo me, andava giocato, perché mal che vada, mi fai comunque... A parte che potrei fare Living Mana e Mark of the Lotus, perché quando non c'è abbastanza spazio per riempire la board di cristalli di mana, diciamo, rianimati, non vengono usati. Quindi ti avanzava comunque un mana il turno dopo, quindi ti rimaneva un mana e era 2. Potevi fare il Marche dell'Oto più altre cose, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, si è rischiato un po' un po' paura, diciamo. Qui, per esempio, potrebbe giocare Living Mana e Marche dell'Oto. Ora sei in ritardo, perché se fai Hero Power per togliere 2-1... L'unica giocata qui, Marche dell'Oto, secondo me, va a fare Living Mana e Marche dell'Oto. Però, perché ora sono tutti due e due, se c'è una consacrazione hai perso. Chiaro che noi vediamo che c'è l'egualeanza, però ecco qua i piccoli alberelli che vanno a dare un po' di garanzia. La pesata della vita, signori miei! Consacration! Ovviamente Dorothy Rat, per vedere se c'è qualche altra caccola da schiacciare con questa consacrazione immediata. Riprenditi il tuo mana ma togli tutti gli alberelli. Wow! Devo fare il contrario, perché la board era piena e Dorothy Rat non aveva nessun bersaglio. Ora, poteva anche essere scelto... Vabbè, sai che c'è? Ce le rimetto nel dubbio. E stavolta li vedo pure più 1-1. Stavolta ci rifletto e lo uso, va? Sì, 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 sì. No, e più che altro, Dorothy Rat è stato giocato forse non solo per togliere, ma per essere sicuro che non ha nessun drawback. Perché essendo la board è piena, non poteva vocare alcun che. Marchio dell'Oto, se io nel dubbio ho fatto la spell da 10 di Rafam, però l'ho fatta a 8. Però, guarda cosa pesca il magico. Te sei forte, ma io un pochino di più. E quality consacration! Se posso punire qualcuno, lo punisco violentemente, signori miei. Doppia consacration, situazione pazzesca per il magico che ha topdeccato due volte di fila. Aoe del pala è laica boss, ragazzi miei. Innervate, che ovviamente è la pescata migliore del mondo per Druido nel momento in cui sei a zero carta in mano. Proprio ti dà la gioia infinita di poter dire gioca a te. Dall'altra parte c'è uno splendido outdoor pacekeeper, peraltro, che gestisce il match. E qui, ottimo buff. 2-6 di Spikeridge, Steed o Stead. Insomma, in questo giro la concessione la dà. Klaus, 2-1 e il magico con il pala Murloc ci ha fatto tanto, tanto divertire, Francesco. Eh, sì, sì, sì. Fortunatissima pescare le due consacration di fila, ma secondo me qui ha sbagliato Klaus a non aggredire prima. Cioè non c'entrava il turno solito, quel living mana, ma di quinto turno io ti metto, ti riempio la board di 2-2-2, e te o hai consacrazione o sei veramente messo malissimo. Poteva addirittura farli, no, non poteva farli con, perché avevamo fatto il conto di farli con il marchio in realtà? No, non poteva fare con il marchio, però era, io metto questa o hai consacrazione. Però intanto mettiamo i 2-2, sì sì, sono d'accordo. Perché ti metto una pressione decennata. La risposta di doppia consacration ti metteva comunque in difficoltà. Ma non c'era quella consacration in quel momento. Perché, ah no, ecco perché, perché, ecco, sai dov'è che secondo me c'è il Gros Supremo? Non fare marchio e non proteggere quel Finja che hai lasciato morire dall'attacco di arma. Rattuitamente. Anche, anche. Non aveva più burlux, solo un 3-3. Solo un 3-3 è rimasto, forse. Però sì, sicuramente... C'è di peggio nella vita, insomma. No, no, certo, certo, certo. Però, boh, comunque Finja moriva con il marchio dell'otto, moriva comunque dalla consacrazione. Quindi, se si è giocata a Frascia i Vieri, comunque sotto consacrazione. Lì ha scelto solamente di pushare. Però vediamo, in inervazione, io nel dubbio, contro il mazzo di Algeni, primo turno, ti gioco Finja. Sta a te. Come la vedi questa giocata? Passo! Giochi delle creature alte all'inizio? No. Quindi passo, fai te. Io sto così, te che fai? Problemato. La cosa brutta è che qui, adesso, cosa gioca gioca, è nel dolore. Perché se entrano i due Murloc War Leader, o comunque un Blue Gear Warrior in mano, quindi ti parte un 6-3 carica che ti fa delle belle cose. Diamo un po' che entra... Wow, cosa richiami? Senti come fanno male questi otto danni. Senti come balanando. E intanto gioco... Sai cosa? Io gioco anche Firefly. Vai, perché ci sono, metto board. E te che fai? Mamma mia, che male. Prendi 8 pinze in faccia. Dai, dai, se hai il terzo turno sei a 22. Pari ai Warrior. Solo che lui in campo ha 4, 8, 12, 16 danni. E ha 8... Tanto freno fuggia, va. Terzo turno. Tu, se posso topdeckare Murloc War Leader, perché non lo topdecco al terzo turno? Amici miei, senti che botta. Mamma mia. Well played. Pem. Pem e sono altri 17. Passo, è il tuo quarto turno e sei a 5 di vita. E hai un 1-1 in board. Che fai? Mamma mia. Mi sono bloccato un attimo lo spectator, mi sono perso. Mi è rimasto bloccato da 9. Mi è perso la violenza pura. Smart moves, I concede. Questa volta a concedere è il machico Francesco. Mamma mia. Sono perso la finale. Mamma mia, che cattiveria. Beh, ha pescato bene sicuramente, c'ha Klaus, questa volta. Ma tanto quanto ha pescato bene il machico nel match precedente. Quindi diciamo che siamo pari, no? Pari e patta, vorrei quasi dire. Assolutamente. Assolutamente. Peraltro, peraltro, come dire, giustamente tu dici due topdeckate di consacration, io topdecco tutto il resto che mi serve nel match successivo. Il mio druido violentemente si riporta in carreggiata con un attacco di rabbia, proprio. Però, però, e qui la domanda tecnica è, in questo tipo di decklist è vero che ci vuole di pescarlo bene, che serve, come quando si gioca l'Edwin 8-8 di primo turno e quant'altro, però, francamente, sono per avere anche queste partenze, queste decklist. E non è l'unica che il druido può avere, ho sbaglio? Sì, no, infatti, per quello appunto io adoro quell'Hydra 8-8, il fair deal del real title, il vil razziatore, perché mentre il vil razziatore poteva essere counterato pesantemente, giocando tante piccole spell, magari tenendolo bloccato, l'Hydra è un 8-8, mi fai danni, ma io ho 30 punti ferita. Vai tranquillo. Immagini un druido del genere che di primo turno ti fa innervet, innervet, idra passo. Buongiorno. Ti fai cosa ti fare? Io ho un 8-8, fai te, gioca, metti i piccoli 1-1, tralena, fammi tre danni, io ti do tre tuni di te e sei morto. Su tre tuni ti faccio 24 danni su tre tuni, incredibile proprio. Quindi, comunque, si porta a casa la vittoria, Clouds per 3-1, scalzando il magico dal secondo posto, e pensa andando a recuperarlo come punti, se non ricordo male, non so se era a 6 o a 9 Clouds, mentre il magico era a 12. Vedremo la classifica magari a fine stream, se la regia ce la metterà. Lascio a te la parola per chiudere, caro Bonluigi, saluto lo streaming, ragazzi, grazie mille di averci fatto compagnia stasera, ci vediamo alla prossima puntata. Allora, il magico era a 12 punti, Clouds a 6. Signori miei, abbiamo visto come Ungoro è entrato nel mondo di ESL, come anche la ESL Italian Championship viene portata in mezzo al fuoco del vulcano, i migliori giocatori italiani sono qua, divisi su quattro gruppi, che si danno battaglia e si sfidano l'uno contro l'altro, senza colpo ferire, perché avete visto, sanno controllare, sanno gestire, ma sanno anche fare male in quei due, tre, quattro, cinque turni che possono bastarti per shottarti rapidamente con le mie piccole creature. Le quest di Ungoro ci permettono di avere sempre degli obiettivi all'inizio di ogni partita, all'inizio di ogni match, invece il torneo di ESL ci dà un grande obiettivo finale come le finali italiane della Serie A da raggiungere, solo se siamo abbastanza bravi da qualificarci in questi gironi. A questo punto, questa era la serata, questo era ESL e T, grazie per averci fatto compagnia, ma io lascio la voce, quella, la mia, di Luigi Davdas, va a riposare, quella di Francesco, Raimè Giardino ci ha già salutato, lascio la voce a Simone, che dagli studi di ESL invece ci vuol dire come andare a letto e riposarsi, ricordandoci che il focolare è sempre acceso per le migliori sfide di Arston. Buonanotte! Buonanotte!